Uno sguardo al domani. Una città dinamica, smart, aperta ai giovani. Novara è sempre più città universitaria, sede di un Ateneo giovane e ambizioso, con un'offerta formativa d'eccellenza e in continua crescita, dove creare solide basi per il futuro. Un territorio ricco di opportunità formative e professionali, una città con un centro storico con teatri, mostre e musei, capaci di unire arte, storia, cultura e svago con impianti sportivi per divertirsi con gli amici, allenarsi e stare in forma. Vivere qui e trovare la giusta dimensione per un futuro migliore. Grazie a tutti.